Questo è il nostro piatto della legalità, di regatori molto belli che tengono molto la cottura. Giustizia e verità, per i familiari, solo un grido, giustizia e verità. Vado a salutare i cuochi io. Andremo a impiattarlo, concluderemo appunto con una foglia di basilico fresco e il piatto è fatto. Guidate dalle parole La Verità Illumina la Giustizia, 200.000 persone hanno sfilato a Bologna per la ventesima giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall'Associazione Libera di Don Ciotti e Avviso Pubblico. CAMST, azienda leader nella ristorazione, socio fondatore dell'Agenzia Cooperare con Libera Terra, ha sostenuto la manifestazione. Con Libera collaboriamo dal 1995 quando abbiamo cominciato a utilizzare i prodotti di Libera all'interno di nostri locali in giornate dedicate appunto a questo tipo di attività. E poi questa attività è proseguita negli anni utilizzando i prodotti nella ristorazione, soprattutto scolastica, ma all'interno anche dei pubblici esercizi. L'impegno di CAMST si è concretizzato nella preparazione di oltre 1.500 pasti per i familiari delle vittime e i delegati e nella proposta di piatti preparati con i prodotti di Libera Terra all'interno dei suoi locali. Tra questi anche il self-service centro, dove al termine della manifestazione Don Ciotti ha incontrato personalmente i lavoratori CAMST. Con l'adesione all'iniziativa, CAMST, nel settantesimo anniversario della sua fondazione, ha ribadito il suo sostegno a Libera Terra e l'impegno nella lotta contro l'illegalità. Io sono Simone. Io sono Nicola. Io sono Renata. Io sono Ugo. Io sono lo chef di parte ricevimenti. Sono orgoglioso di lavorare con i prodotti di Libera Terra per tre motivi. Sono buoni, sono genuini e sono soprattutto liberi. Grazie. Grazie a tutti.